Qual è la regione che garantisce più entrate per lo Stato? Guardate come si deforma la cartina dell'Italia. I due poli opposti del confronto sono nella parte settentrionale dello stivale. La Lombardia contribuisce con oltre 22 miliardi di euro. Fanalino di Coda è la regione a statuto speciale, il Trentino Alto Adige, con solo 502 milioni di euro. Tra tutti i paesi dell'Unione Europea, l'Italia è al primo posto per evasione fiscale. È il meridione a diventare enorme, con il Molise e la Basilicata in testa, che per ogni 100 euro versati ne evadono 64,47. Ultimo in classifica, il Trentino Alto Adige, dove su 100 euro versati altri 20 non vengono pagati. Anche per il numero di frodi ai fondi erogati da Bruxelles, l'Italia non si fa onore in Europa. È sempre suo il primato. Ecco come si modifica la penisola quando inseriamo i dati. È la Sicilia ad ingrandirsi di più, con i suoi 23,5 milioni di euro truffati, seguita a ruota dal Lazio, dalla Puglia e dalla Calabria. È la Valle d'Aosta, già minuscola, a diventare piccola piccola, con solo 15 mila euro di frodi registrate.